La società scientifica può avere un ruolo importante in quanto sicuramente entra nel merito delle linee guida, entra nel merito dell'applicazione delle linee guida e quindi un incontro come quello di stamattina permetterà di applicare le innovazioni che sono in rapidissima evoluzione di trovare una modalità di applicare nella clinica, nella pratica di tutti i giorni in modo molto più efficace.